Per fronteggiare l'emergenza Covid, la Regione Toscana ha effettuato in tempi rapidissimi 2.000 assunzioni negli ospedali, 400 medici e 1.600 fra infermieri e operatori sanitari. Tuttavia, per gestire al meglio la fase più critica dell'epidemia, il Presidente della Regione Enrico Rossi ha rivolto un appello a tutti gli operatori della Sanità Toscana che hanno lavorato direttamente o in convenzione con le strutture pubbliche affinché tornino in servizio. Noi adesso abbiamo di nuovo bisogno di voi, abbiamo bisogno se sarà necessario di potervi avere in servizio ancora perché nonostante si sia deciso di assumere tanti giovani, qualcosa come 2.000 persone, 1.600 tra infermieri e operatori sociosanitari, 400 medici che sono stati assunti con grande rapidità, nonostante questo c'è bisogno che accanto a queste persone ci sia tutta la vostra esperienza, tutta la vostra capacità di lavoro. Tutti coloro che sono disponibili potranno rientrare in servizio attraverso contratti libero-professionali di sei mesi, rinnovabili e con un compenso equivalente all'incirca a quello che ciascuno percepiva prima di andare in pensione. Per farsi avanti basta telefonare agli uffici del personale delle rispettive aziende sanitarie. Per farsi avanti